Ma che devo vedere? Guarda, guarda che stanno gli altri, vedo loro Ma chi? Nooooooooo No, vabbè No, vabbè, non ci credo Ragazzi, ma siete Il backup prima era via Ma? Oh! Dello, Dello, accanto un secondo Vaffanculo Perché Dello ne prende Ma vada a fare in culo, ma Che teste di cazzo Che teste di cazzo Fammi entrare Axel Che teste di cazzo Che teste di cazzo Sto venendo in base da voi ragazzi Scusatemi, vengo a invadere casa Tanto non serve per mantenere intratta la base, no? No, 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 il più no No, solo... Quanti siamo? Cosa? Per capire quanti gear devo fare, quanti siamo? Fallo pre 16, sì Così Così ce l'abbiamo extra Quello che ho al momento posso fare 40 stringhe, regà No, quella è quella di lomba Lomba, leva sta cassa Cosa mi ha ucciso? Cosa mi ha ucciso? Lancia una stordente! Boh, che cazzo è il nuovo bomba? 5 e... 5 e... Ah, adesso deve che ne vedo uno più, 8 Doppia kill! Oh mio dio Doppio HS oh mio dio coi jesca leccate mercazzo guarda noi ci vediamo da un po' mi presti l'MP5 per cortesia grazie a che ti serve l'MP5? è cacciato, è cacciato totalmente io non ho capito un cazzo hai detto che visto che Nairam ha scritto sul discord che ha iniziato a raidare e noi non stiamo venendo a raidare esatto ma secondo me no perché siamo gli unici che stiamo a giocare e quindi ci raid a noi perché sennò gli altri flammano troppo e si trova intossicato però ha scritto che stava raidando vabbè ma stava trollando si vabbè pure io posso dire eh si che sta avvenendo sta portando le cose anche io forse sto crespo volando tutta la mappa cioè io quello che dico è che secondo me lui viene da noi che cazzo è successo? già è partito il raid? ma chi ti sta ti vengono ti venga la pecora ti venga la pecora lascia di bustare poi ammirano le torrette quando si bustano oh chi si è preso un headshot ma si sa quando bene o male vogliono far l'attacco dovrebbe essere stase ma bisognerebbe capire se lo vogliono fare davvero o no anche ma non lo so allora raga vado sul tetto un attimo a sparare che voglio vedere col sei fuori del lomusite le richiedo col lolo come cazzo sono messo dai salta andiamo a giocare va raggiungiamo gli altri subito direi Dario ti ha dichiarato guerra non vedi il bastardo per me Dario è come un fratello mi dichiara guerra ah Luca non è c'è sta pensare oh vabbè ok perfetto prego prego vada wolf dovrei essere iscritto wolf se non lo smetti wolf sento stazione nell'aria ragazzi ma se ti d'accordo con me che se non ci raidano raidiamo noi socialmente ma se ti d'accordo con me che se non ci raidano raidiamo noi socialmente ma che cazzo mi ha piantato un'ascia in faccia Giorgio è diventato un unicorno a teste di cazzo mi copre pure la visuale a me il cartone mi gasava un botto Digimon ragazzi cioè Digimon si si quando tornavano a Tokyo succedeva il bordello super mega ultra giga greymon mamma mia ragazzi era super arrapante c'è dai insomma volete mettere con i po con i po come non so per bambini la c'è la culo super ultra mega iper incredibile magnifico cioè no 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 glieli vendo io dopo a Dario Moccia che vuole fare un attentato a degli amici ma tu come sei morto? non lo so mi ha ucciso qualcuno aiuto già sarà investito della fortuna nooo chi è che parla? ah ma sei ghedi ho chiamato mafia non è il moba? vuole le false informazioni? come sono i miei mod? no assolutamente qui sta chiamandomela godo mafia ah 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 voi false informazioni grazie grazie ne vanno comprare nulla grazie ragazzi ah 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 ma non possono chiamarci al telefono? !! ma cos'è? ah 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 cazzo oh o ah 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 aaaah 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 nooo aaaah 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 aaaaaah aaaaaah per te cosa fatta ti piace off white aaaah 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 ma perchè te ma io non capisco io mi sono un po' cagato sotto dovevi vedere la scena fuori sono morto aaaah 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 il gruppo di dada interessato ad un team per lei alleato vorremmo fare un'alleanza sperando di portare grande speranza puoi riferire al team di dada che se ne possono andare a fare in culo subito specialmente in anni e soprattutto che noi ormai abbiamo già un'alleanza e siamo contro tutto il server grazie grazie signor Messari grazie